ecco il tipico parcheggio romano situazione pericolosissima ecco una macchina appena inchiodata i vigili urbani sono lì dopo il tumore ecco qui cosa si è verificato con l'istante la macchina era ferma in mezzo a tre corsie nello scooter non l'ha vista, non l'ha notata per il traffico e l'ha presa in piedi nella polizia municipale era poche centinaia di metri grazie a tutti